E' permesso? Devi fare il lavoro per me. Adesso è bravo a fare quello che fai. A usare le mani. No, io non vado via. Insomma, senti. Quante settimane stai così? Che settimane? Ieri? Sanguinato, s'ho svenuto. Ed è? Io non sentivo più niente. Avevo toccato in modo particolare. Sono usate, io ero morta. Cosa hai visto? Cosa hai sentito? Cosa hai provato? Ma quando? Quando sei stata riportata fra di noi. Io dico che puoi aiutare pure gli altri. Che do, mamma? E' nato unico che vado a guarire gli storpi. Se ti spacci per santo, tendo a prenderla piuttosto male. Christian! Stai bene? Sto bene, sto benissimo. Mi avevano avvisato che saresti venuto. Mi ha detto, angilla domini. No! Sono il primo. E' l'ultimo. Il primo e l'ultimo. Il principio e la fine. Ma chi hai lasciato quel neonato? A un infermiere. Tu lavoravano infermieri all'ancilla domini. Questa cosa che è successa, quello che hai fatto, ha meglio che rimane qua. Se si convincono che esiste un mondo migliore, allora per te so cazzi. E questo non può essere. Davide, sei messo a far coglione con l'unica da cui devo stare lontano. Ma non è tardi, eh? Fa ancora un tempo. Ma che cazzo hai fatto? Resto la gente verrà a cercare te. A sperare in te. Tutto il tempo mi prendo. No! Tu lo sai. Quello che ho dovuto fa' io. Per guadagnarmi il rispetto di tutti qua. Io non volevo che finisse così. Però deve essere chiaro una cosa. L'hai ammazzata te. Accomodati. Sono morto, eh? No. È tutto leggermente più complicato. Ho passato la vita a dare la caccia degli impostori. Con te mi sono sbagliato. In modo che succede? Torni da dove sei venuto e fai quello che devi fare. Lo perdonerai. In modo che lo sappia. Che il tuo sarà tutto un altro regno. È incredibile a che grado di perfezione possa arrivare l'inganno del diavolo. Perché loro non lo sanno riconoscere. L'anticristo.